ciao e adesso l'hai sistemato? qual bad? da minicraft ok siamo a un minuto di registrazione ok ma io sto affrontando gli allenatori intanto tu che stai facendo? ragazzi forse per oggi missione fa revolvere Kirlia in Gardevoir 5 livelli gli mancano anzi 6 perchè ora l'ha fatto subito anzi 4 semmai ah pure tu là 6 è una femmina questa da me Kirlia comunque domicrator si fa un video con i versi dei pokemon dom ma bestia don lo sapevi che è una bestia domicraft ma perchè che ne è stato paralizzato con tripletta? ma vedi che oh ma perchè chi ha lasciato tutti quanti? pure a te se ti vedo t-shot domicraft livello 26 4 livelli mancano 4 livelli mancano domini creffa diglielo aspetta mi faccio Gardevoir o Galleid quella è meglio si devo avere soltanto la Petralbore solo che la Petralbore non ce l'ho io resisti Kirlia resisti resisti e va a cagare Kirlia è morta ma Galleid fa schifo alla sua vaga evoluzione ma te lo conosce ma Dragon è ancora sono tutti quanti evoluti Dominiclef a parte Garde e Dragon ti rendi conto che mossa è cova vuova Dominiclef è una mossa che esiste cova vuova ma se ninja mi impara fulmine ho vinto praticamente no fulmine una mossa di tipo acqua ti prego Sheptile no Dominic comunque Sheptile è fortissimo nooo persi and Dominiclef si l'inja sarà il 37 ma il centro Pokémon che io non so dov'è aspetta bicicletta bicicletta degli schiaffi infiniti manco tipo delle mosse che continuano degli schiaffi infiniti allora allora volgi botta eh quanti Pokémon hai tu Dominiclef in squadra 4 o 3 ah mi hai raggiunto quindi eh allora non va bene una bella gattura comunque Dominiclef Dominiclef ci ha buttato qualche mille volte su sto gioco è Barry ma tu non l'hai chiamato tu hai chiamato Barry tu invece per me cioè io ti ho chiamato cioè hai capito ho trovato messaggio aereo Dominiclef che cosa è il messaggio aereo? c'è un pozzo di roccato c'è un puntico la roccia anima si pozzo memoria ma oh Dominiclef ma l'hai messo la la roccia anima che si praticamente è una specie di di stagno dici leggendario no non è vero chi è? ho trovato Rapidash Dominiclef Swampert lo catturo acqua terra Dominiclef vabbè no di terra già c'ho come si chiama c'ho ancora la sei io sono arrivato io sono arrivato alla palestra c'era lega lega vendi dann dom guarda guarda le immagini kirli che usa aereo attacco immagino Dominiclef dom l'aria si riscalda vedi ma non abbiamo un pokemon con taglio si mini Dominiclef io voglio vedere alla lega pokemon quanto sarà facile c'è ci sa luca che batti pokemon a livello 30 così tranquillamente e lui è a livello 23 ho trovato giro lancia che mossa di merda ho trovato surf no dai dimmi che c'è un centro pokemon no chi è barry no barry ti prego evviva ehi Dominiclef indovina che c'è dopo anche barry wow ah non è vero non è vero ho detto la prossima volta lotteremo meno male no io ho finito tutti i allenatori ho finito perché c'è un centro pokemon qua vedi più avanti sopra ma tu li raccogli le bacchie come quando tipo hanno metà vita e gliela dai se la mangiano le recuperano tutta la vita che dici che sei inutili e allora male cosa vuole imparare i propompa no è buona con i pokemon di tipo volante elettro per dom ma si è dato la coppia quella bionda si chiamano tim ed eva dominiclef guarda sta battuta la tim fa la coppia con la tre ma te lo ricordi tu dominicraft te lo ricordi il pinguino pino no quello che fa ho investito elegante che non ho metà quello che fa voglio navigare messaggiare cammini cammini impechito lui la minicraft ecco il pinguino che cantava comunque ah c'entro market e vai che cosa vendono ti ricarica totte ti ricarica totte ti ricarica totte ti prego totte ah eccole qua ci sono anche le megaboy i rivederizzanti e pigliamo anche un po' di superpozioni che non fanno mai male il vero dominicraft dominicraft ma perché non fa una collaborazione con la team eh tu che cos'hai wind team a casa che connessione hai e allora con la vodafone e com'è una buona connessione tra l'altro già siamo a 10 minuti di video e non abbiamo fatto niente praticamente vediamo un pochettino sta no ma io voglio fare pensione pokemon ci veniamo guarito i pokemon no ma non c'è nessuno anzi dossi a leo ma non devi dare nessuno alla pensione dominicraft che ti serve scusa finalmente dominicraft abbiamo l'erba doppia quindi pokemon doppio dom ma scusami tanto ma non ci scappa scappa ragazzina scappa pokemon lo ti indoppio giusto no perché non ti vuole fare scappare che ci vuoi dire eh a me no protezione ti ricordi protezione dominicraft ho contorno ma minicraft secondo me un pokemon è larva ti interessa solo rock solo rock no ci sei pokemon no ombre è vero dominicraft 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 fantanatore ha mandato oh oh e io come lo batto no ma cosa sta barando secondo me la coppia ancora la sei e allora dominicraft sei indietrissimo ciccolita eh no perché come si chiama qua ci sono un po' di allenatori ancora troppi quindi questa parte la chiamerei allenatori sono allenatori come dice il mio amico finché c'è una strada continuiamo a correre eh fa male troppo onfa dom ma come si evolve lugia no ah non lo sapevo cosa ne pensi delle bambine dominicraft che pokemon grossi salta i allenatori dominicraft non sono particolari perché è scarso questa è pazzia senta tua madre dominicraft eh ma me lo dici sì no ma quanti sono sti allenatori non finisco più da mini non li fare sono troppi apple apple Ho trovato l'antiscottatura Dominic Sono felice di questo Quanti pokemon Gia ha questa Bufu eh E' cotta a puntino Zampanera Cosa fa questo? Caffè Bumù Ciocco Alleluia Dominic Nooo Quanti allenatori Dovamo concludiamo la parte Nooo Facciamo 25 Perché troppo lunghi Poi non va bene Sta piovendo Dominic Minicraft In questa città Vado sempre a cacciare i tesori Dominicraft No è utile Dominicraft Cosa ne pensi di Cosa ne pensi di Coffing Cosa ne pensi di Ma Doma Rivincita è molto utile Usala Sia lei usa taglio Pim Vado che quanto sto odiando sta parte Por terra Poi fossero pokemon piccoli Tor terra è gigantesco Guarda Tor terra e ora salamence Battilo tu salamence Guarda che fortunato che sei Giga impatto E' brutta precedenza eh Dom ma se uno ti dice E' cotta a puntino Tu che gli dici Non riusciamo a farcela Non riusciamo a farcela Pure unknown c'è Messaggio bolla Ma no perchè Un pokemon ti prego Ok Di nuovo salamence Qua è isco Qua c'è isco di mezzo Che schifo disco io direi Più che altro Fierranitar Dominicre Floccatturo Tiranitar Per la mano che ci ho toglie Che è stato Cucusette De Dominicre Quindi questa parte Come la chiami Malenatori Dimmi che ho i repellenti Repellenti Ah ma ho comprato i repellenti Dominicre Allora siamo a posto Pietrafoglia Bella la pietrafoglia Dominicre Ho trovato la pietrafoglia Buono Ma chi? Ancora Qua sta battuta Prax trova Marta il pugno Ma io già c'è Marta il pugno E c'è logo Prax trova Una seconda No no Dominicre Una seconda pietrafoglia Mi pare giusto Piore dove si va Sto uscendo da questo inferno Forse ho finito E perché sputo Però Ah dopo ci sarà la palestra Di Rusepoli Sei Pokémon In doppio In doppio Nazzitella Ti do la superpozione Ninja Nooo Ancora no Nooo Noo si si comunque si che bello quando ho pigro vogliamo la sigla te l'ho detto questi pokemon sono fortissimi grazie a tutti è brutto forse ce l'ho fatta da mini graph dai uccidi stop plasol finalmente 3.000 di soldi meritatissimi la mini graph ce l'ho fatta mi ha sciatato ninja a livello 37 ti rendi conto? c'è a livello 23, 25, 36 ma mi direi che c'è barry no barry ah la città del team galassia questa è hai capito domeni graph quando stacchiamo? conclusione 30 minuti è la mea sarà omaric il nostro prossimo cavolo extra? il distruttore il distruttore no è ora no è ora omar ce l'ha fatta ce l'ha fatta batterlo domeni graph aspetta che livello ce l'ho che me la vado subito allora a livellare così la e metti anche l'evoluzione all'ultimo minuto ti faccio sto lavoro in più dai dove è l'erba? vabbè torni indietro con la bicicletta no domeni graph prima di aspetti anche che iovevolve b il poccomon io ti faccio e quindi spettacolo prima è è è è è è è è Sì, Beautiful è a livello 30 Lo sapevo, cosa? Beautiful si sta evolvendo Da Minicraft Da Minicraft, Kirly è diventata Gardewar Eccola qua Ha cambiato abilità adesso Kirly Praticamente Se viene Gardewar avvelenato I da PS invece di toglierli Ed è diventato più veloce Bello Da Minicraft, dai, stacchiamo No, che fotticello Ok, dai Dal Prax e il Maestro è tutto Arrivederci